buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale youtube anzi ben trovati un po che non mi faccio sentire ho avuto dei problemini però lo sapete ogni tanto qualche video mi piace seguirlo insieme a voi bene adesso andiamo a vedere questo video di questa pagnotta allora in questo video non salterò il passaggio dell'impasto che trovate in tutti i miei video poi ve li metto sopra vi metto il link quindi vado direttamente dopo la prima lievitazione eccola qua ho fatto lievitare lievitare l'impasto per quattro ore ho fatto prima l'autolisi con queste farine semintegrali sempre meglio fare un autolisi di 20 30 minuti e poi ho aggiunto il lievito ho impastato ho aggiunto ancora il sale finito di mettere l'acqua ed eccolo qua e poi ho coperto naturalmente potete fare sia a mano che con l'impastatrice questo impasto e scegliete voi come farlo vedete molto morbido perché l'idratazione sta intorno al 75 per cento quindi è abbastanza morbido anche leggermente appiccicoso e non farò le pieghe come le pieghe di rinforzo farò proprio un pane così semplice semplice casareccio avete visto ho piegato i lembi più volte al centro e vedete com'è morbido il cestino ci ho messo tanta semola questo cestino non è molto adatto se volete la pagnotta un pochino più alta ce ne vuole uno di quelli un po stretti questo rimane un po largo quindi vi anticipo che la pagnotta qui verrà bassa anche perché a noi piace così non piace quel pane tanto mollicoso quindi sicuramente avete visto si allarga e si allargerà anche la pagnotta poi in lievitazione copro e lascio lievitare io lascio a temperatura ambiente perché fa freddissimo 5 ore presso a poco anche 6 seguite la lievitazione guardate con il dito vedete questo è pronto da infornare se tornava velocemente torna piano piano vedete quindi è pronto naturalmente ho acceso il forno a 250 l'ho portato a temperatura quando il forno è ben caldo giro giro il pane forse ho fatto lievitare anche troppo se volete potete fare anche un passaggio in frigo e tenerlo rallentare un pochino la lievitazione vedete si è staccato bene non ho messo il telo perché avevo messo tanta semola anche troppo molto morbido quindi devo fare velocemente dei tagli con un coltello e poi faccio scivolare subito con la pala e carta forno sulla teglia ben calda conoscete già il mio metodo ok allora io il mio forno ho attivato il vapore quindi ho dato due spruzzi di vapore all'inizio il forno l'ho tenuto a 250 per l'incirca 20 minuti anche mezz'ora se vedete che rimane ancora chiaro e poi sono andata a scalare 230 220 fino a 200 il tutto per 45 50 minuti dipende molto dai vostri forni ho aspettato un attimino per tagliarlo eccolo qua come vi ho detto all'inizio la pagnotta è venuta non è venuta altissima però va bene così guardate l'interno però come è bello è bellissimo e molto buono bene amici vi ringrazio della visione vi invito a lasciare un like a commentare e a condividere il video ciao a tutti e ci vediamo prossimamente ciao 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 ciao